Tenere viva la memoria delle atrocità nazifasciste e non dimenticare quanti lottarono e permisero la liberazione dell'Italia. La Capitanata celebra il 78esimo anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo con cerimonie partecipate in piazze e strade. In particolare a Foggia le celebrazioni hanno avuto inizio alle ore 9 in Villa Comunale con un omaggio ai fratelli biondi per poi proseguire in piazza l'Italia con la commemorazione ufficiale e la deposizione di una corona d'oro al monumento ai caduti alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della città. La festa del 25 aprile continua ad assistere negli anni a polemiche che alimentano scontri e divisioni a livello politico disegnando un paese spaccato da lacerazioni antiche evidentemente non del tutto superate. E' anche un momento di riflessione per consolidare nella nostra coscienza, nella coscienza collettiva questi sentimenti di valore fondamentale del rispetto degli altri, dell'affermazione dei principi costituzionali, della tutela della persona. Costituzione e principi che noi dobbiamo sempre difendere, ancora di più in questa realtà, con questo coraggio, questo spirito unitario, con questa fiducia che poi ci lascia questa giornata, che è un segno di speranza per i nostri giovani. Il problema fondamentale è proprio questo, quello cioè di ridare libertà a tutti quanti gli italiani, indipendentemente dalle loro posizioni politiche e dalle loro idee. Ed è un po' strano che per festeggiare questa festa di liberazione si vada all'estero, mentre invece è qui che bisogna celebrare i valori fondanti di questa Costituzione democratica, libera e, per non dire una parola di politichese, bella.